Musica Buongiorno, sono Francesca di Media Hotel Radio e vi do il benvenuto alla rubrica Servizi e Comfort. Tutto ciò che occorre per ottimizzare le esigenze dell'ospite e migliorare i servizi dell'albergo, speciale Hospitality Day. Ci troviamo infatti presso il Palacongressi di Rimini per la nuova edizione di Hospitality Day, uno dei più importanti eventi formativi dedicati ai professionisti dell'ospitalità. Oggi siamo qui per guidare i nostri ascoltatori alla scoperta di Garmon Group. Il gruppo Garmon è oggi presente in oltre 50 paesi ed è innovatore e talvolta pioniere nel settore della chimica per la detergenza e l'igiene, nel tessile industriale e in attività tecniche a supporto del fashion design. La divisione ORECA del gruppo Garmon risponde ai requisiti di eccellenza necessari ad occupare una posizione di leadership in un settore molto specialistico. Garmon fornisce infatti prodotti e servizi in grado di assicurare pulizia e igiene presso strutture ospedaliere, alberghi, aziende del mondo ORECA, catering, imprese di servizi, lavanderie industriali e molto altro ancora. Diamo il benvenuto a Elia Casali, General Manager di Garmon Group. Buongiorno, buongiorno a tutti. E benvenuto. Che cos'è Garmon Group? Lei innanzitutto ha già detto tantissime cose su quello che è Garmon Group, per cui direi che posso ricapitolare in breve quello che lei ha già descritto ed approfondire in particolare la divisione ORECA della quale io mi occupo nel quotidiano. Garmon Group è, come giustamente avete detto, un gruppo internazionale che vende i propri prodotti e soprattutto i propri servizi a servizio dell'industria in tutto il mondo, dell'industria tessile in tutto il mondo. In Italia in particolare siamo presenti con la divisione ORECA che si occupa di detergenza professionale, prodotti monouso destinati alle comunità, quelle che noi chiamiamo comunità, ovvero sia i ristoranti, gli alberghi, i centri benessere, tutto ciò che comunque la parola ORECA sostanzialmente sintetizza. E quindi di che cosa vi occupate principalmente? Allora, la nostra divisione fa del servizio la chiave della propria mission aziendale, ovvero sia è passato il tempo in cui un'azienda come la nostra, volgarmente chiamata distributrice di prodotti chimici e di prodotti monouso, semplicemente faceva il servizio di consegna al cliente finale. Oggi tutto va incentrato in una logica di servizio ed è quello che facciamo noi, perché ci siamo strutturati con una realtà consolidata, soprattutto in questa regione, quindi in Emilia Romagna, Emilia Romagna e Marche, che è la zona dove noi operiamo con una più alta concentrazione di, in un'altra più alta intensità di clientele. Siamo in grado di assicurare la fornitura in tempi rapidissimi, quindi da una parte il servizio logistico al cliente, quindi la capacità di soddisfare le esigenze, quindi le necessità quotidiane nell'arco delle 24 ore, entro le 24 ore successive all'ordine da parte del cliente, assistere il cliente dal punto di vista di quelle che possono essere delle esigenze tecniche, degli impianti di dosaggio automatico, sia in lavanderia che sulle lavastoviglie, quindi nell'ambiente cucina, nell'ambiente lavanderia e quant'altro potesse essere richiesto dal cliente ed ancora nella consulenza per quanto riguarda le esigenze stesse dei clienti. Noi operiamo attraverso una rete vendita che è formata non da venditori, come potrebbe far pensare il termine, ma da consulenti dal punto di vista della merceologia e del servizio. Crediamo che questa sia la filosofia secondo la quale poter sviluppare il business nel futuro. In questo hospitality day in particolare abbiamo visto che un po' tutta l'offerta dai settori merceologici più svariati si sta orientando in questo senso qui e naturalmente anche noi ci crediamo molto. Quindi servizio, spirito di servizio, personalizzazione e fidelizzazione del cliente a 360 gradi. Questo è ciò che Garmon Group riesce a dare alla propria clientela oggi e speriamo di poterlo continuare a dare in maniera sempre migliore per il futuro. Un po' ne abbiamo già parlato, ma quali sono le tipologie di azienda alle quali vi rivolgete e in che modo? Garmon Group è nata 35 anni fa focalizzandosi sull'industria alberghiera. L'industria alberghiera, in quanto ovviamente operando in una zona come la nostra, quindi l'Emilia Romagna, con una forte vocazione turistica, ha accompagnato, se vogliamo, la crescita del settore turistico alberghiero nel proprio percorso. Quindi lo ha visto nascere dal 1980, da quando l'azienda ha cominciato ad operare, e lo ha accompagnato nel proprio sviluppo. Da lì ci siamo poi allargati, specializzandoci sempre più nei vari settori orecca, quindi allargandoci al settore della ristorazione, al settore delle comunità e del centri benessere, tutto ciò che affine comunque sia la logica dell'accoglienza, che è tipica un po' anche della nostra terra. Come mai Garmon Group ha deciso di partecipare a Hospitality Day? Quali novità portate e in che cosa consiste la vostra partecipazione? La nostra partecipazione oggi è nata dal coinvolgimento con la società che ha organizzato Hospitality Day, con la quale abbiamo trovato grosse affinità e che ci ha coinvolto molto in questo progetto. Abbiamo riscontrato nell'Hospitality Day una volontà di portare innovazione nel mercato dell'Hospitality, appunto come dice il nome stesso della giornata. Noi riteniamo, credo senza voler essere troppo ambiziosi, di poter portare innovazione in questo settore e pertanto abbiamo aderito ad un progetto che non so dove ci possa portare oggi, non riesco a dirlo, però sicuramente credo che ci potrà dare tante soddisfazioni. In particolare oggi abbiamo presentato diverse innovazioni, tra cui cito solamente la possibilità di utilizzare l'ozono, il gas ozono per quanto riguarda la sanificazione e la igienizzazione di ambienti e superfici e un nuovo sistema di dosaggio per il lavastoviglie che si chiama Matrix, che anche questo va, non lo sto a spiegare, eventualmente poi potrò essere a disposizione degli ascoltatori, insomma, che va in direzione di una personalizzazione di quello che è il servizio di dosaggio all'interno delle macchine lavastoviglie. Bene, allora ringraziamo il nostro ospite Elia Casali, General Manager di Garmon Group, per essere stato con noi ai microfoni di Media Hotel Radio. Grazie a voi per l'ospitalità e alla prossima occasione. E per la rubrica Servizi e Comfort Speciale Hospitality Day è tutto, un saluto da parte di Francesca. Grazie a voi.